e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e finalmente tra pochissime ore sarà disponibile la nuova patch la 11.11 una pace tanto tanto attesa perché porterà una bella ventata di aria fresca in tutto quello che sarà il futuro di fortnite ci aspettiamo ovviamente nuove skin nuove informazioni tante tante cose magari relative anche all'evento e alle nuove armi barra veicoli che potrebbero essere inseriti su fortnite nel video di oggi volevo parlarvi anche però di una nuova skin già spoilerata forse erroneamente di fortnite direttamente da epic games e nella modalità creativa alcuni l'avranno già visto ho pubblicato ieri il post su instagram una skin molto molto interessante che andrebbe a completare un set abbastanza raro ovviamente parliamo della patch e anche una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live dalle 8 alle 18 su twitch grazie mille ragazzi per la vostra compagnia e grazie anche a tutti quelli che vogliono supportarmi utilizzando il mio codice creator xyuderone dai ragazzi iscrivetevi mi raccomando ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video prima comunque la domandina va la devo fare anche ieri mi avete risposto in tantissimi a quello che vi avevo chiesto grazie di cuore per i vostri commenti qua sotto domanda di oggi molto molto interessante ma a te quale collaborazione ti piacerebbe vedere con fortnite insomma è tanto che non sta facendo una collaborazione ma ci può stare per tutto il discorso del cambio di season l'abbiamo visti con batman li abbiamo visti con jordan li abbiamo visti con la marvel li abbiamo visto con stranger things cosa che vorresti vedere tu a me personalmente piacerebbe una collaborazione con qualche band musicale vecchio stampo tipo fortnite x acdc fortnite x iron maiden fortnite x metallica sarebbe veramente una grande figata ditemi invece quale sarebbe la vostra collaborazione che aspettate qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito allora a vedere gli ultimi dettagli relativi alla patch 11.11 che se andate a vedere direttamente nella lobby del gioco viene chiaramente indicata in basso a destra tempo di inattività programmato il periodo di interruzione di servizio per la patch 11.11 inizierà alle 4 eastern time il che vuol dire che per noi dovrebbero essere va giù alle 10 8 gmt dovrebbe essere le nostre 10 come al solito downtime alle nove e mezza chiudono i server alle nove e mezza blindano tutto alle 10 e secondo me nel giro di un po un'oretta di solito arriva tutta la patch ovviamente la vedremo in diretta insieme a tutti i leaks su twitch quindi mi raccomando ragazzi passate a fare un salto chi non può passare lo può può seguire tutti gli aggiornamenti su instagram pubblico sempre le cose più importanti e andiamo avanti con il prossimo argomento un argomento davvero interessantissimo eccolo qua uno dei grandi misteri di fortnite ovviamente tutti ci auguriamo che venga introdotto il pesce mitico anche nel battle royale momentaneamente è già in game ma non nella modalità battle royale bensì nella modalità creativa e credo anche in parco giochi punto di domanda perché parliamo del pesce in questione perché gira da poche ore su internet una clip dove due giocatori i primi due al mondo sono riusciti a cavalcare il pesce mitico ve la voglio far vedere per farci due risate insieme perché è veramente molto molto divertente ed ecco qua la clip in questione come vedete parte già con il nostro la nostra versione frozen di del love ranger che tira il pesce alla skin lei si chiama non me lo chiedete perché non me lo ricordo ormai ne conosco ce ne sono troppe ma come vedete se tu ti metti in un punto abbastanza sporgente come fa lui con il pesce mitico in mano puoi tirarlo e violentemente farà arrivare il tuo compagno di squadra molto molto lontano sappiamo che il pesce mitico sarà veramente devastante quando verrà portato sul battle royale 200 di danno in qualsiasi distanza quindi staremo a vedere un pochettino cosa avranno in mente di fare perché sicuramente è una cosa tanto tanto attesa e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi parliamo della skin sergente trifoglio l'avete già riconosciuta molti non dicono che è una skin rara in realtà è uscita solamente due volte ed entrambe le volte nell'occasione della festa di san patrizio il 17 marzo ovviamente sergente trifoglio insieme al suo piccone una delle skin più ricercate l'anno scorso uscirono anche altre skin a tema di san patrizio ricordo in questo momento il motociclista era uscita anche la copertura perché parliamo di questa skin perché ieri se andavate in creativa c'era un'immagine molto molto particolare nelle miniature delle isole in creativa e tutti si sono chiesti ma che cavolo è una skin che è stata liccata praticamente direttamente da epic games voglio farvi vedere l'immagine in alta definizione che è proprio questa ed è in poche parole riconducibile alla versione maschile del sergente trifoglio ovviamente non può che essere altrimenti sarebbe eccezionale perché completerebbe un altro set che è rimasto incompiuto oramai da due anni a questa parte se devo essere sincero mi piace tantissimo questa skin molto molto più del sergente trifoglio che ahimè non ho nella collezione mannaggia che non shoppavo tanto a marzo quindi staremo a vedere se questo piccolo spoiler di epic games si trasformerà poi realmente in una skin in game e andiamo avanti probabilmente con l'ultimo argomento di oggi abbiamo dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la patch qua dicono 11.10 ma in realtà credo sia sbagliato il titolo dovrebbero esserci nuove storyline dedicate ancora al fort nightmares mi sembra un po' strano però sulla creativa io vi riporto quello che leggo dai leakers mondiali dovrebbe esserci un nuovo un nuovo background musicale per quanto riguarda la possibilità di cambiare il nostro sottofondo musicale nel battle royale e raven returns is still outside lui è là fuori potrebbe essere semplicemente un'altra quest in più non abbiamo purtroppo nessuna informazione ufficiale sul battle royale in quanto oramai da un po' di patch a questa parte epic games si rifiuta sia di rilasciare le patch notes ufficiali che di dare qualsiasi indicazione su quello che dovrà arrivare per noi insomma ragazzi oggi sarà una giornata veramente molto interessante vi invito a passare sempre sul canale twitch vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao ciao